ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video interattivo e benvenuti e bentornati sul mio canale io sono morgana questo è il mio primo canale a cui vi invito ad iscrivervi e sotto giù in descrizione trovate il link di riferimento al mio secondo canale a cui vi invito a dare un'occhiata e a scrivermi nome e data di nascita per curiosità e caratteristiche sulla vostra persona io faccio dei video a parte gratuitamente mentre potete prendervi i miei recapiti per chiedermi informazioni per avere un consulto con me li trovate anche una piccola lista amazon dove potete dare un'occhiata per magari farmi un regalo in base a coloro che vogliono diciamo farmi un regalo sto per fare un post e a chiunque di voi acquisterà un uno dei degli articoli che sono in questa lista amazon avrà a disposizione un consulto con me di tre domande questo poi io farò un post sulla community questa è un'unica variante e andremo a fare il video che ha come titolo un cambiamento inevitabile iniziamo subito a prendere le carte che riguardano le energie per quanto riguarda questo video di questo cambiamento inevitabile vediamo un po che cosa abbiamo per quanto riguarda questo cambiamento andiamo a prendere anche una carta della dea vediamo un po ecco qua una carta della dea e poi una carta di questi altri meravigliosi oracoli ok vediamo di prendere anche una carta di queste qua benissimo andiamo a vedere quali sono le tre carte di partenza per questa per questa per questo cambiamento inevitabile abbiamo la carta di spingersi al limite coraggio fare un atto di fede vincere la paura e correre il rischio se volete fare progressi la sola scelta che avete adesso è fronteggiare l'ignoto va bene avere paura questo è il momento di correre il rischio che non è calcolato di provare eccitazione vente vi mentre vi preparate a fare un atto di fede lo spirito è presente perciò non dovete temere siete chiamati a esprimere il vostro vero se prestate ascolto al vostro cuore alla vostra anima e non al vostro cervello spingetevi al limite e scoprire e scoprite di poter volare dovete fare un passo verso l'ignoto per poter trovare i vostri miracoli diciamo che con questo oracolo potete avere un legame molto intimo con una persona lasciare che lui o lei vedano ogni aspetto della vostra personalità soprattutto quello che avete quelli che avete tenuto nascosti o cercato di proteggere diciamo che incute un po di timore questo vostro atteggiamento è giunto il momento di correre il rischio e di farvi vedere per ciò che siete di farvi davvero vedere per ciò che siete è importante che parliate che dite ad alta voce quello che vi necessita che chiarite quelle che sono le vostre aspettative e che spiegate in che cosa sperate diciamo che questo è il momento di andare sul sicuro e di spiccare un balzo sarete contenti di averlo fatto perché il risultato sarà ottimale diciamo che siete alla ricerca di un legame stabile con qualcuno e se questo è il vostro momento fate un passo verso questa situazione diciamo che gli dei sono dalla vostra parte e vi daranno ciò che davvero desiderate perciò questo è il momento di spingervi al limite e di dare uno slancio a quello che è diciamo questa vostra situazione vediamo con la carta della dea cosa abbiamo la grande idea l'unità sacra allora questo è il messaggio della presa di coscienza è il momento di vedere il tuo mondo attraverso una lente rispettosa e chiara dell'unità e della connessione la grande idea creatrice di tutta la vita e grande madre di tutti noi è tempo di lasciarsi alle spalle tutto quello che è futile giusto sbagliato che sia buono cattivo che sia non importa non importa che cosa voi pensiate e soprattutto se non vi porta da nessuna parte entra nello spazio in cui puoi scoprire il terreno sacro della condivisione senza malizia lavora a partire dal desiderio che hai dentro di te e che di tutti e con questo desiderio tu e tutte le persone intorno a te ne potranno beneficiare guarda gli altri come se fossero anche un riflesso di te stesso adotta un approccio umile ma radicato alla tua vita a partire da ora devi essere responsabile dell'energia che diffondi al mondo e devi essere consapevole dell'influenza nell'ambiente sull'ambiente circostante questa dea ti ricorda che potresti vedere diverso anche qualcosa negli altri ma in realtà siamo tutti una cosa sola e in una sola presenza tratta gli altri come vorresti essere trattato tu e i miracoli diciamo abbonderanno questo è davvero un momento propizio della tua vita per crescerti per crescere ed espandersi allora le scelte i comportamenti possono causare una distorsione del tuo mondo sentimenti problematici fanno parte del viaggio alla scoperta di sé e diciamo non è il momento di diffidare per sovravvivere potresti essere stato condizionato a sopprimere ciò che ti mette a disagio potresti esserti trovato in una posizione imbarazzante con qualcuno e non sai quale dovrebbe essere il tuo prossimo passo devi essere onesto quando non sai qualcosa ammettilo e sia aperto all'apprendimento questo è quello che ci dice la nostra grande idea l'unità sagra andiamo a vedere con il nostro oracolo che cosa abbiamo l'unione unità sagra spingersi al limite qua ci parla sempre tutto di un'unione di un qualcosa che si può che si può unire allora diciamo che questa unione può essere morale o anche materiale e può prendere forma un sentimento affettivo un sostegno psicologico oppure un aiuto fisico si avvicina e lega due persone due circostanze due ambienti di solito si tratta di un presagio favorevole e questo questa carta vi dice che vi potete sentire legati vi potreste sentire legati ad una persona uno stile di vita oppure a un ambiente il suggerimento che questo oracolo vi dà è quello di cercare i modi per conquistare o riguadagnare una maggiore autonomia naturalmente questa carta può riguardare sia l'amore sia il lavoro o altri settori vi sentirete sostenuti da qualcuno da qualcosa forse già conoscete l'altra parte ma potrebbe anche essere un soggetto che ancora non vi è stato rivelato in ogni caso beneficerete di un'unione armoniosa che vi porterà dei vantaggi se quanto detto finora non si applica adoperatevi per trovare un sostenitore un socio un partner o simili qua ci parla di un'unione a 360 gradi vediamo adesso che cosa ci dicono i miei oracoli per questo cambiamento inevitabile oltretutto perché è scritto nel vostro destino tutti gli oracoli ci parlano di un'unione vediamo un po' che cosa ci dicono ancora allora incontro fatalità destino è un qualcosa che voi non vi aspettate è un qualcosa che capita quando meno te lo aspetti una fatalità un incontro un invito all'ultimo momento diciamo l'imbattersi in una situazione o in una persona nuova riceverai un regalo vi dicono le carte è un qualcosa che il destino vuole donarvi inatteso improvviso fulminio lo metto insieme perché è molto bello inevitabile è un qualcosa di imprevedibile e soprattutto di inevitabile voi non potete fare altro che stare a guardare qualcuno vuole convincervi qualcuno vuole convincervi magari che questa inevitabilità non è tanto diciamo inaspettata ci potrebbe essere qualcuno che vuole farvi credere che tutto è stato programmato e invece no questo dono che la vita vi sta dando questo dono che riceverete in un momento inaspettato non è stato niente di programmato magari per conquistare la vostra fiducia è stato fatto spontaneamente sinceramente per trovarvi insieme a questa persona in quel determinato momento per ricevere quel dono ora o mai più è una situazione che voi dovete come dire non soltanto godervi ma anche come dire prendere al volo ecco è una situazione che dovete prendere al volo qua secondo me c'è questa donna che vi vuole convincere del contrario ma come dice anche il fondo manso ci sono questi messaggi in arrivo per voi messaggi che porteranno appunto un dono vediamo che cosa ci dice ancora cosa ci dicono i tarocchi vedete è un qualcosa sempre che arriva all'improvviso ci sono tre carte io ho preso due carte dai miei oracoli è una carta dei tarocchi che è venuta fuori da sole ed è la carta della torre questa carta della torre ci sta a significare che quando meno ve lo aspettate arriva qualcosa di improvviso che magari scuote il vostro sistema di vita che magari scuote quella che è la vostra routine la vostra quotidianità ma che è giusto che avvenga in questo momento e in quelle circostanze vedete qua è come se vi trova un po' in difesa un po' sulla difensiva perché dovete essere pronti diciamo a superare questo ostacolo che vi viene dato da questa incertezza che questa donna vuole cercare di convincervi che tutto non è casuale invece anche se voi state in guardia è un qualcosa che riguarda appunto appunto scusate la fatalità qui c'è qualcosa che sta arrivando per voi qualcosa nel futuro che sta arrivando per voi soprattutto e che porta appunto successo qua ci sono molte carte di bastoni carte di bastoni significa azione passione vitalità ma anche potrebbe essere qualcosa che riguarda il lavoro ma trattandosi di carte di bastoni può essere anche qualcosa legato ai sentimenti perché mi riporta alla passionalità e c'è un bellissimo inizio c'è un bellissimo inizio anche perché mi esce il paggio di il paggio di denari il paggio di denari e sono sempre novità concrete che arrivano qua ci sono troppe carte che sono venute fuori novità che arrivano e anche una bella ruota di fortuna quella la situazione che state vivendo in questo momento e che sicuramente vi ha stancato vi ha stancato e vi sta facendo riflettere se cambiare o no la vostra situazione qui c'è appunto un rinnovamento per voi questo incontro questa fatalità porterà un rinnovamento che sicuramente non vi aspettate ma che non potete evitare e soprattutto non dovete evitare perché è un qualcosa che vi fa passare da un momento di diffidenza a un momento di concretezza perché mi finisce una situazione di dubbio e mi porta a delle novità molto concrete ci sono delle novità concrete in arrivo per voi appunto vedete qui vedete qui come la stanchezza la non voglia di fare le cose la voglia di cambiare proprio vita sta per finire perché sta iniziando un periodo non soltanto favorevole per voi ma soprattutto voi siete in grado di sostenerlo perché avete tutte le armi e tutte le possibilità per poter iniziare anche se voi state sulla difensiva anche se voi pensate quel giorno di non uscire capiterà qualche cosa che vi porterà a incontrare questa persona o a trovarvi in questa situazione bene questo è il cambiamento inevitabile che riguarda tutti voi penso che vi siete ritrovati un po' tutti e vi ritroverete un po' tutti in questo video mi raccomando vi aspetto nei commenti adesso io a breve farò un post per quanto riguarda quella piccola lista Amazon che vedete chi acquisterà un qualcosa sulla lista che c'è sotto Amazon avrà in omaggio un consulto con me di tre domande basta che voi mi scriviate chi siete o mi farete sapere tramite whatsapp che siete voi ad aver fatto il dono e nel momento in cui io riceverò il dono vi scatterò la foto e da lì ci metteremo d'accordo per avere questo consulto di tre domande che dire vi ringrazio per aver visto il video iscrivetevi a tutti i miei canali e ci vediamo alla prossima